Pace del Signore a tutti, oggi vorrei guardare un argomento importante e che riguarda proprio l'atteggiamento tra le pecore e i ministri e i ministeri, perché è vero che oggi purtroppo tanti prendono l'ardire di farsi prendersi un ministerio da solo, di prendersi delle pecore, pacere delle pecore senza la volontà di Dio, però è anche vero che la volontà di Dio e ripeto la volontà di Dio è che in mezzo al popolo di Dio, in mezzo al greggio di Dio ci siano dei ministri, dei ministri che si affatichino per il regno di Dio, per pacere le pecore di Dio. E purtroppo si vede una realtà, si vive oggi una realtà molto brutta, una realtà di cui ho fatto parte anche io, nel senso che anche io avevo questo modo di ragionare, questo modo di pensare, ed è questo modo di pensare che distrugge l'opera di Dio nella Chiesa, che distrugge e impedisce la crescita delle pecore di Dio. E questo modo di pensare è questo, beh se io ho Cristo ho tutto, quindi anche se io non mi sottometto a un ministro di Dio, anche se io non cerco un servo di Dio per essere ammaestrato, edificato, per essere portato a maturità spirituale, Dio mi porterà a Lui da solo, perché Dio è colui che mi insegna, mi ammaestra. Beh io una volta avevo questo modo di pensare e di ragionare anch'io, però poi il Signore ci aiuta a capire, a comprendere e a portarci oltre quelli che sono dei ragionamenti sbagliati, nel senso che la parola di Dio serve per insegnare, ammaestrare, per farci avere delle basi solide su cui camminare. E la base della parola di Dio non è che ogni pecora cammini per conto suo, ricordiamoci che Paolo paragona il corpo di Cristo, il popolo di Dio, ha un corpo umano formato da diverse membra, unito e collegato tra di loro mediante delle giunture, quindi unito nelle profondità. E quando l'Apostolo Paolo paragona il corpo di Cristo a questo, a qua un corpo, lo fa per un obiettivo, per farci comprendere che, come poi lui dirà, che ognuno di noi, anche se ha un compito, un'opera, un dono, un ministero diverso, tutto serve per edificare, per far crescere con un unico obiettivo, che la Chiesa diventi forte, che la Chiesa cammini nella volontà di Dio, che la Chiesa sia secondo la giustizia di Dio. Quindi Paolo paragona il corpo di Cristo a un corpo umano, facendoci comprendere e conoscere che abbiamo bisogno gli uni degli altri per crescere, per essere edificati nella volontà di Dio. Quindi già la pecora che si estranea e inizia a dire, io non ho bisogno, non ho bisogno della fratellanza, io non ho bisogno di un ministro che mi guidi, una pecora che inizia a fare questi ragionamenti già sta fuoriscendo dalla volontà di Dio. Quando noi ci convertiamo siamo bambini, dice l'Apostolo Pietro, siamo bambini spirituali. In Primo Pietro, al capitolo 2, l'Apostolo Pietro dice, sbarazzandovi di ogni cattiveria, ogni frode, ipocrisia, invidia e maldicenza, come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Se avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelte preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Allora, comprendiamo una cosa importante. Lui dice, come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale. Ecco, chi è che ci può dare questo puro latte spirituale? Quando noi ci convertiamo, il puro latte della parola arriverà attraverso quegli uomini maturi che Dio ha costituito per ognuno di noi. Quegli uomini che a loro volta sono stati sottoposti ad altri uomini di Dio, che a loro volta sono stati sottoposti ad altri uomini di Dio, è una catena che non finisce fino al ritorno di Gesù Cristo. Perché? Perché la volontà di Dio è che ognuno di noi cresca e diventi immaturo nella fede, perché un domani quando giungiamo a una certa maturità, anche noi possiamo essere degli strumenti nelle mani di Dio per poter edificare nella vita di altre persone. Ecco, però se noi non ci sottomettiamo alla volontà di Dio, quindi non ci sottomettiamo ai conduttori, non ci sottomettiamo a coloro che si affaticano per insegnare l'Evangelo, a coloro che hanno raggiunto la maturità spirituale, sono guidati dalla volontà di Dio per istruirci nella verità, se noi non ci sottomettiamo a loro, noi non ci siamo sottomettendo neanche a Dio. E non possiamo dire, beh io non mi sottometto a quell'uomo, o non mi sottometto a quel ministro, ma mi sottometto a Dio. No, è sbagliato. Cioè se io non mi sottometto a un uomo di Dio che riconosco che è guidato da Dio, che ha la conoscenza di Dio, io non mi sottometto neanche a Dio. Io sto mentendo a me stesso, io sto mentendo a me stesso. Nella parola di Dio ci dice che noi non possiamo dire che amiamo Dio ma poi odiamo i nostri fratelli. Ecco, è la stessa cosa, perché se noi non amiamo coloro che vediamo, non possiamo amare quelli che non vediamo. Ecco, è la stessa cosa. Se io non mi sottometto a un servitore, a un ministro di Dio che Dio pone davanti a me, io non mi sto nemmeno sottomettendo a Dio. Perché? Perché la volontà di Dio è che ogni pecora sia sottomessa al ministro che Dio gli ha posto davanti. Sottomettersi vuol dire ubbidire, ascoltare quello che lui ha da dire. Se ci riprende nella verità, noi lo dobbiamo ascoltare. Perché oggi viene fatta passare la riprensione come qualcosa di brutto, no? Come un giudizio. Ma è scritto che Dio riprende coloro che ama e anche i ministri riprendono le pecore che amano perché le devono guidare nella verità. Quindi la riprensione fa proprio parte dell'amore di Dio che si manifesta nel cuore di quelle persone. Tanti si allontanano perché magari vengono ripresi nel bene da parte dei ministri. Allora iniziano a disprezzarli perché iniziano a guardarli come persone che giudicano, come persone che si impicciano degli affari della vita di quella persona. Ma stiamo scherzando. Cioè, riusciamo a comprendere e a capire che un ministro riceve da parte di Dio l'autorità, ma soprattutto l'impegno è importante di prendersi cura di una o più pecore. Quindi se una persona riceve da parte di Dio il ministerio e il compito di guidare pascere delle pecore, quel ministro non ha il compito di farlo soltanto durante la domenica o in qualche incontro settimanale. Quel ministro ha il dovere e il compito da parte di Dio di guidare quelle pecore in ogni momento della loro vita, cioè di informarsi su chi ascoltano, chi seguono spiritualmente parlando. Quindi se io dovesse avere sotto delle pecore, io dovrei informarmi loro su chi ascoltano, cioè quali predicatori stanno ascoltando, per comprendere anch'io se loro stanno ascoltando predicatori che predicano la sana dottrina o se stanno ascoltando mercenari, se stanno ascoltando eretici. Cioè, capite, il compito di un pastore, cioè di un ministro, è proprio quello di prendersi cura delle pecore di Dio e pascerle anche nella vita al di fuori degli incontri comunitari, degli incontri di chiesa. Però le pecore devono mettere anche il ministro in... non devono mettere il ministro in difficoltà, nel senso che se noi vediamo un uomo di Dio che cammina nella verità di Dio, che fa la volontà di Dio, che anche durante la settimana ci scrive, ci chiama per chiederci come stiamo, come va, come non va, se abbiamo sentito qualche culto, che abbiamo ascoltato. Noi non lo dobbiamo vedere come un uomo che si impiccia degli affari nostri, noi non lo dobbiamo vedere come un uomo che si sta impicciando degli affari nostri, ma lo dobbiamo vedere come un uomo di Dio, guidato da Dio, che sta cercando di pascere la nostra anima al meglio, che sta cercando di farci camminare al meglio nelle cose spirituali. Cioè io riconosco di più l'unzione e la presenza di Dio, la guida di Dio su una persona che fa questo piuttosto che su una persona che non lo fa, perché una persona che non fa questo non ha ancora compreso qual è realmente il compito di un servitore di Dio. È una pecora che invece di apprezzare e amare l'opera di questa persona che cerca di pascerlo al meglio, lo disprezza e si allontana, non ha realmente capito qual è il compito di una pecora di Dio. E tanti fanno passare questo comportamento, questo comportamento da parte delle pecore, no? Il fatto che se il ministro ti riprende, se il ministro si affatica, no? Ti chiama, cerca di comprendere chi ascolti, chi segui, quali sono, qual è la tua, cosa credi, o se ti stai sviando dalla verità. Cioè non riconoscono in quel ministro l'opera di Dio, ma riconoscono invece in quel ministro un impiccione. Iniziano a dire questo un impiccione. No, non è la volontà di Dio questo. Cioè se io mi comporto così non mi sto neanche sottomettendo a Dio. Io la chiamo la finta fede, perché nella parola di Dio è scritto che la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Cristo. Che cosa ci insegna la parola di Cristo? La parola di Cristo ci insegna la sottomissione alle autorità spirituali che Dio mette davanti ad ognuno di noi. Ecco, la parola di Cristo ci insegna che le autorità spirituali che Lui pone davanti a noi sono strumenti per mezzo del quale Lui ci aiuta a crescere. Io non posso dire io cresco da solo, io cammino da solo, io vado avanti da solo, non ho bisogno di nessuno. Questo non è volontà di Dio. Allora, la parola di Dio è una somma completa. Non facciamo le persone che prendono un versetto biblico tirato fuori dal suo contesto e ne portiamo un insegnamento, una dottrina. La parola di Dio dice nel Salmo che è nella somma che dà la verità. Non è un versetto che ci insegna la verità, ma la somma, la somma della parola di Dio ci insegna che noi abbiamo bisogno di conduttore. Tralasciando il fatto che Giovanni scrisse questo, ma a sua volta Giovanni stava insegnando ad altre pecore. Quindi quelle pecore che ascoltavano anche un epistola sola di Giovanni stavano ricevendo un insegnamento da parte dell'Apostolo Giovanni stesso. Quindi noi dobbiamo prendere ogni passo nel suo contesto e cercare di comprendere. La parola di Dio nella sua totalità ci insegna che le pecore hanno bisogno di sottomettersi a delle autorità ministeriali che Dio istituisce in mezzo al corpo di Cristo perché ne abbiamo l'assoluta verità, cioè ne abbiamo l'assoluta necessità, scusate, ne abbiamo necessità. Cioè noi pecore abbiamo necessità di avere sopra di noi uomini maturi, uomini maturi che con l'esperienza sono cresciuti nella volontà di Dio che ci aiutano a crescere anche noi per fare la volontà di Dio. E se io inizio a dire no io non ho bisogno di loro perché io posso crescere da solo perché tanti dicono io ho l'unico pastore che è Gesù Cristo e non ho bisogno di altri pastori. Ma lo vogliamo comprendere che questo modo di ragionare è in contrasto all'insegnamento di Cristo stesso perché Cristo stesso ha avuto delle pecore ma poi ha rilasciato altri ministeri per pascere le pecore. Cioè quando noi ci accostiamo, e ripeto facevo anch'io questi ragionamenti, quando noi ci accostiamo a fare questi ragionamenti noi stiamo fuoriuscendo dalla verità di Dio e iniziamo a ragionare come dei ribelli. Iniziamo a ragionare come dei ribelli spirituali perché io ho compreso che c'è tanta ribellione spirituale, c'è tanta ribellione spirituale ai ministeri, ai ministri, agli uomini di Dio che si affaticano per l'insegnamento della parola di Dio e appena questi uomini di Dio ci fanno notare un errore, ci vogliono riprendere per farci comprendere in che modo dobbiamo camminare, subito noi ci allontaniamo, li lasciamo, li chiamiamo persone che giudicano, li offendiamo, cioè subito noi ci ribelliamo, ecco questo è uno spirito di ribellio, noi siamo ribelli, ci comportiamo in maniera ribelle alla volontà di Dio. Noi vogliamo ascoltare le lettere di Paolo, di Pietro, quando poi noi ci troviamo davanti a dei ministri di Dio e siamo ribelli a quei ministri, quindi se noi ci ritroviamo, cioè se noi fossimo stati ai tempi dell'apostolo Pietro Paolo, noi saremmo stati ribelli a loro, perché? Perché se noi viviamo con uno spirito di ribellione invece di vivere con uno spirito di sottomissione alla volontà di Dio, siamo ribelli a chiunque. E noi purtroppo facciamo passare questa ribellione come una finta fede, io la chiamo la finta fede, ma in realtà è una ribellione, perché? Perché dire io non ho bisogno di nessuno, io non ho bisogno di un ministro, io non ho bisogno di un uomo che mi guida, un uomo che sbaglia come me che mi guida, perché io ho Cristo che mi guida, perché io ho Cristo, l'unico pastore, quindi non ho bisogno di altri uomini. Ecco, questa è una finta fede, ma in realtà è una ribellione spirituale, cioè noi ci stiamo ribellando all'ordine di Dio, noi ci stiamo ribellando alla volontà di Dio, perché la volontà di Dio non è questa. La volontà di Dio non è che noi ci ribelliamo ai ministeri, iniziamo a dire io ho Cristo, il pastore, non ho bisogno... No, non è questa la volontà di Dio. Vorrei leggere un passo in Efesini, in Efesini 4, dal versetto 11 che dice così. E' lui, Cristo, qua sta nel contesto sta parlando di Cristo, è lui, Cristo, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera, del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Affinché non siamo più come bambini, sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciava in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui il corpo, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo e nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Quindi è lui, è Cristo che ha dato dei ministeri, per il perfezionamento dei santi, per la crescita dei santi affinché tutti i santi possano giungere all'unità perfetta. Quindi senza i ministeri che Dio, i ministri che Dio ti pone davanti, tu non raggiungerai mai la perfetta statura di Cristo, tu non ti perfezionerai mai nel tuo cammino perché loro sono persone che nella loro esperienza hanno compreso come camminare con Dio e possono passare quell'esperienza a noi. Paolo, parlando a Timoteo, gli diceva di guardare, di ricordare tutto quello che lui aveva fatto e di imitarlo. Perché? Perché lui nella sua esperienza, nella sua crescita, nel suo cammino, quello che aveva ricevuto da Dio lo aveva rilasciato nel suo cammino verso coloro che lo guardavano e ascoltavano e chi lo guardava e ascoltava poteva imitare la sua condotta per compiacere Dio. Ma se io non mi sottometto ai ministri di Dio, io non mi sto sottomettendo a Dio e se io sono un ribelle ai ministri, io sono un ribelle a Dio. Mettiamocelo nella testa. Se io mi ribello ai ministri di Dio, non ai mercenari, perché poi esistono i mercenari, ma Dio ci dà discernimento attraverso la loro predicazione, attraverso quello che noi andiamo a leggere, se effettivamente sono ministri di Dio. Guardandone il frutto, noi comprendiamo se l'albero è un albero buono o no. Però se io comprendo che quello è un albero buono, ma quando mi riprende mi arrabbio, ma quando mi riprende mi allontano, ma se inizia a dire che quello è uno che giudica, che quello è uno che non si fa gli affari suoi. Se il ministro mette mano nella mia vita nel senso che mi chiama, cerca di capire io chi ascolto, io come sto camminando spiritualmente al di fuori della predicazione domenicale, perché il ministro di Dio non si basa solo sulla predicazione domenicale, quello è un punto su cui insegna. Ma poi ti può chiamare durante la settimana, magari per parlarti del Signore, per capire tu come stai camminando, come stai vivendo, quale situazione stai passando. Cioè, questo è un ministro di Dio. E se io mi rifiuto di sottomettermi a una tale autorità spirituale, io mi sto rifiutando di sottomettermi a Dio. Adesso ci sono persone che addirittura li chiamano legami carnali, cioè legami errati, quei legami dove il ministro cerca di capire tu nella tua vita cosa fai, come ti comporti, come cammini. Ma, cioè, comprendiamo. Cioè, comprendiamo che Dio ci dà delle istruzioni e ci dà dei ministeri a cui ci dobbiamo sottomettere per il nostro bene, per il nostro benessere. Quando un ministro ci chiama, cerca di capire nella nostra vita chi ascoltiamo, se ascoltiamo qualcuno di sbagliato con la parola di Dio ci fa capire perché non lo dobbiamo più ascoltare. Ecco, un tale ministro è una persona che veramente compie l'opera di Dio e Paolo dice che coloro che si affaticano per l'insegnamento sono degni di un doppio onore, cioè vanno onorati, rispettati, perché sono realmente servi di Dio che si affaticano per una nostra crescita spirituale, per un nostro cammino. Basta fare il ribello, basta essere ribelli alla volontà di Dio. Le pecore non sono chiamate ad essere ribelli ai ministeri, le pecore sono chiamate a sottomettersi ai ministri di Dio perché così facendo si stanno sottomettendo a Dio. Ricordiamoci quelle parole quando Gesù dice chi riceve voi riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Ecco, quindi se non ricevi un ministro di Dio, non lo apprezzi e non lo onori per ciò che fa, per il fatto che si affatica per l'Evangelo, per il fatto che si affatica per l'opera di Cristo, per la tua vita spirituale. Tu stai disprezzando Cristo stesso, stai allontanando Cristo stesso e questa non è la volontà di Dio. Svegliamoci, è tempo di svegliarci, è tempo di comprendere che Dio ci sta chiamando a comprendere qual è la sua volontà e la sua volontà non è che ognuno di noi cammini per i fatti propri. Cioè la volontà di Dio non è che io me ne non ho bisogno di nessuno, non ho bisogno di ministri. Se oggi la parola di Dio è arrivata qua è perché lo Spirito Santo si è servita in questi duemila anni di uomini di Dio che hanno continuato a tramandare il messaggio dell'Evangelo. Come diceva Paolo a Timoteo insegna le cose che tu ricevi da me ad altri uomini che a loro volta saranno capaci di insegnarli ad altri e così via affinché la parola di Dio rimanga sempre la stessa, non venga mutata. E anche facendo così purtroppo ci sono stati uomini che ribelli ai ministri, ribelli alla volontà di Dio, ribelli alla guida dello Spirito Santo, hanno iniziato ad andarsene da soli e andando via da soli hanno iniziato a tirar fuori dottrine, insegnamenti sbagliati, hanno iniziato a infangare il messaggio dell'Evangelo e oggi noi siamo qua a combattere per cercare di ritornare a quella vera parola pura, pulita, che è stata tramandata prima per mezzo degli apostoli e che poi doveva rimanere salda. Ma ci sono uomini di Dio, uomini di Dio che insegnano la parola così com'è, che insegnano la parola nella sua purezza, nella sua interezza, che non sono attaccati al denaro, che non sono attaccati alla vita materiale, che non vivono l'Evangelo come una vita materiale, come qualcosa di materiale, ma lo vivono nello spirituale. Per insegnare noi qual è la volontà di Dio... Scusate, ho dovuto interrompere un attimo. Quindi la volontà di Dio è che ognuno di noi si sottometta alle autorità spirituali. Perché ripeto, se la parola di Dio è arrivata qua è perché ci sono stati ministri di Dio, guidati dallo Spirito Santo, che hanno fatto sì che l'Evangelo andasse avanti? E se anche c'è tanta confusione è perché ci sono persone che tagliandosi fuori dal corpo di Cristo hanno iniziato a insegnare cose che non hanno né capo né coda. Hanno iniziato dicendo io sono guidato da Dio, io non ho bisogno di nessuno e intanto con questi ragionamenti si è fuoriusciti dalla verità e si sono messe a insegnare cose che non dovevano. Ecco, c'era già questa cosa ai tempi dell'Apostolo Paolo, ai tempi della Prima Chiesa, è continuata, continuerà sempre di più perché l'Apostasia, lo Spirito Santo ci ha detto che sarebbe stata sempre più forte anche negli ultimi tempi, quindi stiamo vivendo un'Apostasia totale, ma se noi non ci sottomettiamo alle autorità ministeriali, nell'Apostasia ci entriamo anche noi, perché non è volontà di Dio che noi siamo ribelli al corpo di Cristo, che noi siamo ribelli a quello che è l'unità del corpo di Cristo, non è nella volontà di Dio che se un ministro mi riprende io lo insulto e me ne vado. No, la volontà di Dio è che se un ministro mi riprende io non sia stolto ma sia saggio e anche se al momento fa male è difficile, ma poi io realizzo, comprendo e mi sottometto a quella ripresa, a quell'uomo di Dio perché sta facendo quel compito per la mia anima, per la mia salvezza, per il mio cammino, quindi per un fine di vita eterna. Quindi cerchiamo di non essere ribelli, cerchiamo di comprendere che non è con la finta fede che noi possiamo andare avanti, non è con una finta fede e spirito di ribellione che noi possiamo andare avanti. Ricordiamoci se io mi ribello ai ministri di Dio, io mi ribello a Dio stesso perché Dio mi insegna, mi riprende e mi ammaestra mediante i suoi servi e se io mi ribello a loro mi sto ribellando a Dio. Vogliamo ribellarci a Dio? Vogliamo continuare a essere ribelli a Dio a camminare con una finta fede? O vogliamo svegliarci e iniziare a camminare con una fede vera, con una fede reale fondata su quello che è l'insegnamento della parola di Dio che ci insegna a stimare gli uomini di Dio che si affaticano per l'insegnamento, a guardare il loro cammino, a vedere come camminano e poi a imitarli. Se ci riprendono ad accettare la riprensione perché lo stanno facendo per il nostro bene e se ci riprendono a non guardarle come persone che non amano, anzi persone che amano più degli altri perché hanno il coraggio e l'ardire nella grazia di Dio di riprenderci affinché noi possiamo camminare secondo la volontà di Dio. Certo il ministro che ci dà sempre baci e abbracci, che non ci dice mai niente, che ci fa fare tutto quello che vuole soddisfa la nostra carne, soddisfa la nostra carne, ma il ministro che invece ci riprende soddisfa il nostro spirito. Quindi il ministro che non ci riprende mai, che ci lascia liberi di fare tutto quello che vogliamo, che non si interessa della nostra vita al di fuori della parte comunitaria, che non si interessa in chi ascoltiamo, chi seguiamo, che ci lascia liberi di fare tutto quello che vogliamo, soddisfa la nostra carne, ma non ci sta portando a una crescita spirituale, non ci sta facendo sottomettere alla volontà di Dio e non ci guida secondo la volontà di Dio. Il ministro invece che si comporta in maniera contraria, che si affatica per noi, che ci chiama, che ci ascolta, che ci segue, che ci fa comprendere chi possiamo ascoltare, chi non dobbiamo ascoltare, che se quando ascoltiamo qualcuno, questa persona è eretica, lui con la parola di Dio ci fa comprendere che è eretica, non soddisferà la nostra carne, perché la nostra carne è ribelle alla volontà di Dio. Infatti dice la parola di Dio che l'uomo carnale non può sottomettersi alla volontà di Dio, quindi non soddisferà la nostra carne, quindi la nostra carne si ribellerà, ma se siamo persone spirituali, spiritualmente comprendiamo e accettiamo quella persona come vero uomo di Dio. Ricordiamoci che noi siamo nello spirito e non nella carne, perché se viviamo nella carne noi moriamo, ma se viviamo nello spirito invece ci sottomettiamo alla volontà di Dio. Gli ebrei camminarono nella carne e si ribellarono sempre a Mosè, si ribellarono sempre alla volontà di Dio, ma infatti la loro fine è stata la morte. Invece quando noi camminiamo nello spirito, comprendiamo e ci lasciamo guidare dallo spirito santo tutto quello che per noi è carnale, quindi la ribellione, il non sottometterci, l'orgoglio, cioè sono tutte cose che devono essere messe sotto i piedi. Dice l'umiltà precede la gloria ed essere persone umili vuol dire anche essere persone che si lasciano modellare, trasformare, perché una persona umile è una persona che ascolta, che pondera quello che gli viene detto, mentre una persona orgogliosa, superba è una persona che non ascolta, che non gli interessa niente. Quindi la persona orgogliosa è una persona che non si lascia ammaestrare, una persona umile è una persona che si lascia ammaestrare da Dio e dai servi di Dio e l'umiltà precede la gloria. Quindi noi non siamo ribelli. Non so se sono riuscito a trasmettere il mio messaggio. Io, ripeto, ero anch'io una persona ribelle alla volontà di Dio. Era una persona ribelle alla volontà di Dio perché mi ribellavo ai ministri di Dio, perché io camminavo da solo, dice, vabbè, io posso camminare da solo, ho Cristo il mio pastore, non ho bisogno di nessun altro. No, non funziona così. Anche se tu conosci la parola di Dio e non cammini nell'errore, non cammini nel peccato, camminando da solo intendo, cioè vai avanti camminando in una maniera giusta, ma continui a ribellarti ai veri ministri di Dio, tu stai sbagliando. Tu non ti stai totalmente sottomettendo alla volontà di Dio. E Dio vuole che noi ci sottomettiamo totalmente alla sua volontà. Perché soltanto quando Dio ha totalmente il controllo di tutto il nostro essere, quindi quando il nostro essere è totalmente sottomesso a Dio, allora nessuno più ci può portare nell'errore, nessuno più ci può fare cadere e portare lontano da Lui. Siamo un corpo, abbiamo bisogno del corpo, abbiamo bisogno di crescere come Chiesa unita, abbiamo bisogno di sottometterci all'autorità dei veri servitori di Dio perché loro ci fanno crescere e servono, sono messi da Dio per perfezionare il corpo affinché poi ognuno di noi abbia da poter dare ad altri e ad altri e ad altri e ad altri e ad altri. E anche stare al di fuori di un corpo è sbagliato, cioè stare al di fuori della Chiesa, camminare per i fatti proprio è sbagliato perché se noi riceviamo un dono, un qualcosa, non lo mettiamo a disposizione della Chiesa. Che poi oggi si può fare anche tutto online, abbiamo la Chiesa, le membra, siamo in contatto con le membra del corpo di Cristo, ok. Ma cerchiamo di fare ogni cosa secondo la giustizia di Dio, non siamo ribelli alla volontà di Dio, cerchiamo di non essere ribelli alla volontà di Dio, ma cerchiamo di sottometterci ai suoi serbi così come egli vuole perché li ha costituiti apposta finché ognuno di noi si sottometta. Cioè pensate voi se dopo aver costituito gli apostoli nessuno si sottometteva agli apostoli, come faceva la Chiesa a crescere, come faceva la parola di Dio a divulgarsi, come facevano le anime dopo essersi convertite, perché è vero, noi riceviamo la parola, ci convertiamo, ma poi abbiamo bisogno di un cammino, come facevano quelle anime poi a crescere se gli apostoli non insegnavano? Invece la parola di Dio ci insegna che quelle anime che si convertivano erano ogni giorno riunite per ascoltare quello che gli apostoli dicevano, per ricevere l'ammaestramento da parte degli apostoli ed essere portati avanti. O guardiamo anche l'apostolo Paolo come, non avendo mezzi che abbiamo noi oggi, scriveva alle varie comunità che erano state edificate per mezzo del suo ministerio per pascerli, per ammaestrarli, e lui si affaticava tanto per far sì che non si sviasero, quando sentiva da parte di altri fratelli che qualche comunità si stava sviando, che c'erano cose che non andavano, lui scriveva per riprendere, per ammonire, per esortare quella Chiesa a fare meglio. Ecco, e se quelle pecore non si sottomettevano a Paolo, non si sottomettevano alla giustizia di Dio, non si sottomettevano a Dio, erano ribelle non soltanto a un uomo, ma a Dio stesso. Non è questo che Dio ci ha chiamato. Apriamo il cuore all'amore della verità, che è importante aprire il cuore all'amore della verità. Io vi do la pace, spero di essere stato chiaro, se non sono stato chiaro potete contattarmi in privato, insomma. Io lascio sempre il mio numero che è 329 040 4573, io chiudo sempre i commenti sotto i video perché non voglio che si creino confusioni sotto i video perché tanto non giovano a nessuno, piuttosto ci si sente in privato. Vi do la pace del Signore a tutti, Dio ci benedica.